Musica Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento col meteo Una nuova blanda perturbazione atlantica scorrerà sulle regioni del centro e del nord nel corso di questo sabato 3 settembre e porterà delle piogge, dei rovesci sparsi e anche qualche forte temporale Le regioni più coinvolte saranno senza dubbio il nord-est, il medio-alto tirreno, le marche Molto più marginalmente verrà coinvolto l'Abruzzo, il Molise e il Lazio Nella fattispecie ci aspettiamo qualche rovescio, qualche temporale, specie tra la tarda mattina e il pomeriggio nelle aree più interne, dalla Marsica alla Conca Aquilana, il Terramano Parliamo di fenomeni sparsi, irregolari, di breve durata anche in serata qualche pioggia sparsa residua in questi settori altrove tante nubi, nubi medio-alte, qualche sprazzo di sole però non ci aspettiamo particolari fenomeni annessi le temperature stazionarie massime tra i 27, i 28, i 29 gradi minime tra i 16 e i 22 gradi Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi Arrivederci al prossimo aggiornamento Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni